Siamo tornati su Naufraghi Oggi siamo su Naufraghi perché andremo a costruire la scialuppa di salvataggio che non sarà la scialuppa con cui noi ritorneremo a casa nostra però sarà una scialuppa che collegheremo alla nave che non lo so quando la faremo la nave però sicuramente non adesso perché non abbiamo abbastanza materiale wow che bel ponticello vabbè sicuramente non adesso va bene faremo questa scialuppa che la collegheremo là perché così se per caso si rompe la barca si affoga come si dice non mi viene in mente la parola però vabbè sono dettagli allora prendiamo qua un po' di terra per fare qua una bellissima cosa qua c'è un broccione cos'è? aiuto è cattivo si è cattivo mi sa che è cattivo mi sa che non lo dovevo colpire no no probabilmente no però io l'ho fatto lo stesso ok l'ho ucciso molto bene va bene è già finita così ok allora noi adesso facciamo qua la base sotto ok che sarà così la base sotto esatto esatto così poi qua facciamo così si va bene per il momento l'attacchiamo al ponticello perché così è meglio direi l'attacchiamo al ponticello è così ok ragazzi oddio sta diventando notte eh sì purtroppo sta diventando notte ragazzi eh ma come facciamo se è notte io già non vedo più niente mi sa che moriremo perché io non vedo niente allora ragazzi questo video finisci qui spero che vi sia piaciuto noi abbiamo costruito qua una bellissima piccola scialuppa di salvataggio e noi ci vediamo a un prossimo video ragazzi ciao